La monaca e il pontefice di Cristina Siccardi. Sappiamo che il De Garda studiò sui testi di Dionigi Leropagita e di Sant'Agostino che alla morte di Jutta Giuditta ne raccolse l'eredità divenendo magistra della comunità delle Benedettine che facevano parte del monastero maschile dell'abbazia di Disi Bodenberg, oggi ancora visibile ma in rovina, e quindi che rimase nel fecondo nascondimento del chiostro tedesco ma anche nei suoi riconditi segreti mistici per quasi 40 anni, vivendo nel silenzio roboante e costruttivo della preghiera, della meditazione, della sacra liturgia e delle visioni della luce vivente che l'avevano forgiata e modellata come un'anfora infrangibile e ricca di sapienza celeste. Iniziò a confidare le sue visioni dell'anima, come lei le definiva, intorno al 1136 ma a scriverle soltanto nel 1141 quando aveva 43 anni. Racconta Santa Il De Garda. Passati gli anni della giovinezza ed avendo io raggiunta la sua accennata età della maturità udì la voce del cielo che mi diceva io, la luce vivente che fa diradare l'oscurità, scossi a mio piacere arcanamente l'uomo, Eidel Garda, che vogli e lo collocai tra le cose grandi, oltremodo meravigliose, e lo feci molto più che con gli uomini dei tempi antichi che videro in me molti segreti. Lo atterrai con le malattie perché la sua mente in nessun modo si insupervisse. Neppure il mondo ebbe in lui alcuna gioia o piacere ritenendolo poco capace nell'esercizio delle cose terrene avendolo io liberato dall'audacia temeraria rendendolo timoroso e pavido nelle fatiche. Egli infatti provò dolore nel profondo del suo essere, contrizione dell'anima e nei sensi e molte sofferenze nel corpo, sicché in lui non vi fu più alcuna sicurezza e si ritenne colpevole di tutti i suoi mali, circondai le fessure del suo cuore perché la sua mente non si insupervisse e fosse preso dalla vanagloria, mentre invece di tutte queste cose provasse timore e dolore piuttosto che gioia e soddisfazione. Se prima aveva avuto il sostegno spirituale nell'abbadessa Giuditta, ora che lei è l'abbadessa Benedettina a suo fianco subentra il monaco Benedettino Wolmar di Disibondenberg per condurre un'opera di immensa importanza per la chiesa medievale, i cui insegnamenti restano comunque pietre fondamentali per stabilire la sana dottrina e la reale teologia. Quando Santa Ildegarda ebbe il parere più che favorevole di San Bernardo da Chiaravalle per la missione a cui era chiamata, comprese che le sue reticenze e le sue perplessità sulla propria indennità a divenire voci di Dio in terra non avevano più ragione di essere. Tuttavia il suo fisico talvolta si ribellava rifiutandosi di accompagnare la sua missione teologica e profetica, costringendola quindi a letto, ma si trattava di pause temporane in quanto la volontà di Dio si manifestava in lei in maniera insindacabile e dunque, con forza, si riprendeva da quegli intervalli di debolezza che comunque la educavano all'umiltà e a reprimere ogni tentazione di possibile orgoglio e superbia per quei doni sopranaturali che aveva ricevuto. Perciò tornava ad essere presente sull'attenti nella predicazione come nell'azione. San Bernardo da Chiaravalle in persona si fece garante in Santa Romana Chiesa delle doti e dei doni sopranaturali dell'abbadessa Ildegarda, ecco che l'ufficio ecclesiastico diocesano di Dibondenberg domandò alla Santa Sede che i suoi scritti venissero autorizzati. Dal 30 novembre 1147 a febbraio 1148 Papa Eugenio III tenne un sinodo nella sede vescovile di Treviri al quale parteciparono 18 cardinali, molti vescovi e una grande quantità di sacerdoti e religiosi, fra cui lo stesso San Bernardo all'epoca padre spirituale del sommo pontefice. Proprio in quel frangente l'abate di Dibondenberg colse l'occasione per accrescere il credito della sua abbazia pregando il suo protettore, l'arcivescovo di Magonza, di presentare al Papa il caso della profetessa Ildegarda. Il Papa inviò una commissione capeggiata dal vescovo di Verdun con l'apporto del primicerius Adelbert nel monastero di Dibondenberg con semplicità e schiettezza mentre madre Ildegarda rispose tutte le domande e la commissione tornò dal Papa per relazionare. Dopodiché Eugenio III chiese che gli venissero consegnati i testi della monaca benedettina, ovvero l'opera Civias. Il pontefice prese personalmente fra le mani i documenti e iniziò a leggerli ad alta voce di fronte all'arcivescovo di Magonza, ai cardinali, ai prelati, al clero e ai religiosi. Fu così che invitò i cuori di tutti a dare la lode al creatore e a esultare nella gioia. Anche quella buonanima dell'abate Bernardo era lì presente. Questi prese la parola e tra l'applauso generale pregò il Papa di non voler tollerare che su una luce tanto fulgorante calasse il silenzio e di volere invece attestare con la propria autorità una simile grazia che, per volere del Signore, si era manifestata nel suo tempo. Il venerabile Padre dei Padri consentì a dare il proprio consenso con benevolenza e saggezza. Indirizzò dunque a Idelgarda uno scritto sequioso nel quale, in nome di Cristo di San Pietro, conferiva a lei il permesso di rivelare tutto quello che conosceva nello Spirito Santo e la incorreggiava a scrivere. E d'altra parte, con un biglietto di auguri che recava il suo nome, indirizzato all'abate e ai confratelli, esprimeva la sua stima per il luogo dove Costei era stata cresciuta. La lettera che Eugenio III scrisse il Idelgarda andò smarrita, ma la notizia della presenza di una profetessa della Chiesa Cattolica in terra germanica si diffuse rapidamente, così la monaca, che per molti anni era a tutti celata, divenne celebre e autorevoli. Tutta la commissione che esaminò il caso Idelgarda di Bingen, compreso Padre Volmar, l'abate Cuno, l'arcivescovo di Magonza, Papa Eugenio III, rimase impressionata. Nell'inviare a Papa Eugenio III i testi del capolavoro Scivias, Idelgarda fa esplicito riferimento all'autorizzazione pontificia di proseguire nella stesura dell'opera ottenuta durante il sinodo di Treviri nell'inverno 1147-1148. O dolce Padre, io, Mizzarella, ti ho scritto queste cose nella vera visione misticamente ispirata, come Dio mi ha insegnato. Splendido Padre, quando venisti nelle nostre terre, vedesti ciò che delle visioni veraci avevo già scritto, seguendo l'insegnamento della vera luce, e le ascoltasti e le hai tenute nel cuore. Ora è finita una parte di questa scrittura, ma quella luce non se n'è andata, anzi continua ad ardere nell'anima mia, come sempre dall'infanzia. Perciò ti invio questa lettera. Dio stesso me l'ha ordinato. Idelgarda mai avrebbe osato scrivere al Papa per offrirgli un suo lavoro, ma non se ne riteneva l'artefice. Quel materiale lo attribuiva direttamente a Dio. Si spiega così il suo coraggio nel consegnarlo al pontifici, al quale si rivolge ancora in uno stile confidenziale. Questo è il desiderio dell'anima mia. Risplenda in te luce da luce, ti doni occhi puri, renda il tuo spirito pronto per questo libro, e così la tua anima venga incoronata come piaccia a Dio. Infatti molti sapienti, che ragionano secondo la mentalità di questo mondo, la gettano nell'incostanza del loro spirito, solo perché proviene da una creatura misera, che è nata da una costola e non ha ricevuto l'istruzione che si addice ai filosofi. L'approccio operentorio e da magistra della badessa di Zibondenberg non offende affatto l'erede di San Pietro, anzi il rispetto nei suoi confronti accresce e lei, dalla sua formidabile cattedra, avanza nell'insegnare. Tu dunque, padre dei pellegrini, ascolta colui che nel suo palazzo troneggia un potente re, Dio Uno e Trino. Dinanzi a lui stanno alte colonne, grandi santi, circondate da dorati ornamenti e stupendamente abbellite con molte pietre e perle. Ma al re è piaciuto sfiorare una piccola piuma, il de Garda. Così essa è volata in alto in mezzo ai prodigi. Un forte vento la trasportò perché non cadesse. Ora colui che è la vera luce, che splende nelle altezze e nelle profondità e non si nasconde neppure nel più profondo dell'animo, si rivolge a te. Conferma questo scritto affinché esso venga portato all'orecchio di quanti sono aperti verso di me. Fa sì che essi verdegino nella linfa dal dolce sapore. Fa di loro la radice che si ramifica, la foglia che si agita contro il demonio e vivrai per l'eternità. Guardati dal disprezzare questi divini misteri perché essi sono necessari di quella necessità ancora celata e non ancora apertamente manifesta. La piccola piuma prescelta da Dio per traneggiare nel servire la chiesa e nel salvare le anime è disposta ad ogni sacrificio pur di vedere realizzato il regno di Dio già in terra.